Amore mio, questa notte sogna me e dormi con gli angeli. Ti amo, Rosalba. Samo Vito! Ah, ho risposto al tuo telefonino. Chi era? Uno con cui c'è un appuntamento stasera. Io non ho nessun appuntamento stasera. Ce l'hai? Te l'ho preso io. Sopra, si può sapere con chi cazzo vado a cena stasera? Di preciso non lo so. È uno del NIMS. Si deve dire qualcosa sulla pensione di invalidità. Mamma mia, che voce che c'aveva. Che cosa gli hai detto? Mamma mia, che voce che c'hai? Però sei stata tu a dirglielo. Cioè, lui pensava di parlare con te. Senti, Rosalba, lo so che vuoi movimentarmi la vita e ne sono contenta, davvero. Però sarei molto più contenta se le cose le decidessimo insieme prima. Per esempio, adesso vorrei sapere che cosa è questa cosa che mi stai promettere. Fighissimo. Questo è un roll-on per andare ben frigo. Ebbè svolgere l'azione drenante anti-stress. Però secondo me funziona anche così. Ti illumina tutto lo sguardo. Stasera fai così. Vedrai stasera se non mi ringrazzi. Bello.